amici italiano per tutti eccoci pronti ad una nuova lezione di grammatica questa lezione è dedicata agli avverbi di frequenza andiamo a parlare degli avverbi di frequenza delle espressioni di frequenza e invece di fare la mia solita introduzione passo subito la prima slide perché descrive perfettamente cosa stiamo per discutere cosa stiamo per trattare gli avverbi ed espressioni di frequenza gli avverbi e le espressioni di frequenza solitamente si usano gli alberbi però alle volte non si possono sintetizzare non esistono gli avverbi per alcune espressioni quindi dobbiamo usare proprio le espressioni di frequenza che sono delle frasi diciamo più aperte che i semplici semplici e singoli avverbi ripeto gli avverbi e le espressioni di frequenza si usano per indicare quante volte con che frequenza si svolge un'azione nel corso del tempo mangio la pizza due volte al mese ecco questa espressione mi definisce quante volte io mangio la pizza ogni mese leggo il giornale tutti i giorni è un'altra espressione allora andiamo a vedere tutti i tipi di espressioni come si compongono e come si usano e come sono strutturate rispondono queste espressioni questi avverbi rispondono alla domanda con che frequenza ogni quante volte ogni tempo e quanto spesso faccio un'azione o succede qualcosa ad esempio vado in palestra due volte sono le i giorni in cui vado in palestra quindi posso andare il martedì e giovedì e sono due volte alla settimana preciso preciso è andiamo spesso a comprare in quel negozio ok vado due volte alla settimana a comprare quel negozio significa spesso comunque per quel che riguarda la spesa è ogni tanto si fa la spesa non si fa magari tutti i giorni dipende dall'abitudine di ognuno però andare nello stesso negozio due volte la settimana significa spesso poi ogni ogni cosa è riferita a uno specifico avverbio da associarci questo è ovvio queste espressioni possono essere determinate se fanno riferimento a un intervallo di tempo specifico ad esempio due volte alla settimana perché dico che sono esattamente due oppure indeterminate se non fanno riferimento a un periodo di tempo specifico ad esempio l'avverbio spesso ok quindi non so quanto spesso vado a comprare in quel negozio negozio non ho idea di quanto spesso ho detto spesso ma non ho dato una numero preciso di quanto spesso vado andiamo a vedere le espressioni di frequenza determinate cioè quelle che danno un valore preciso alla mia frequenza indicano una frequenza determinata specifica precisa si costruiscono con ogni più espressione di tempo oppure con tutti i o tutte le più espressioni di tempo ogni ora ogni giorno ogni ogni settimana ogni mese ogni anno ogni lunedì ogni fine settimana ogni natale o ogni inverno quindi sono tutti periodi di tempo e mi ogni significa che faccio quest'azione ogni periodo di tempo tutte le tutte le ore tutti i giorni tutte le settimane tutti i mesi tutti i sabati in questo caso significa che lo faccio tutti continuamente quindi tutte le ore ogni ora faccio quest'azione o tutti i giorni vuol dire che tutti i giorni faccio quest'azione ogni giorno vado a fare una passeggiata al parco anna va a trovare i suoi nonni tutte le settimane ogni mese mi accreditano lo stipendio sul conto corrente tutti gli anni a pasquetta andiamo al mare non continuare a ripetermi la stessa cosa tutti i minuti quindi abbiamo delle espressioni diversificate con delle frasi diverse che però ovviamente contengono l'espressione di frequenza e vanno a definire ogni quanto frequente alcune di queste espressioni possono essere sostituite da un avverbio con desinenza in mente giornalmente ogni giorno settimanalmente ogni settimana mensilmente ogni mese o annualmente ogni anno l'uso di questi avverbi è un po più formale ecco nel discorso pratico e informale con gli amici è difficile dire annualmente vado ogni anno è molto più spedito è una questione di abitudine ovvio se ascolto qualcuno che mi dice annualmente lo sento proverire più da un giornale da una televisione un termine un pochino più diciamo più 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 formale ecco ricevo giornalmente una notifica sul cellulare potrebbe essere uno sponsor riceverai giornalmente una notifica sul cellulare ecco è più difficile che una pubblicità o che una proposta di diciamo commerciale ci venga a dire ricevi ogni giorno è un pochino più più informale possibile per la carità non è sbagliato però ricevo giornalmente una notifica sul cellulare più formale ci incontriamo settimanalmente per discutere il progetto la revisione degli estintori va effettuata annualmente ogni anno indicano una frequenza determinata nell'arco di un periodo di tempo specifico determinato si costruiscono con la parola volte preceduta dal numero degli eventi e seguita da a più il periodo di tempo durante il quale si verificano quindi la parola volte preceduta dal numero degli eventi quindi due volte alla settimana perché è il periodo di tempo proviamo a vedere gli esempi mi telefona due volte al giorno per sapere come sto esco con i miei amici una volta alla settimana due volte al mese vengono a cena da noi la rivista mi arriva per posta tre volte all'anno nota con settimana e anno è accettata anche la forma senza la quindi una volta alla settimana è corretto ma anche una volta la settimana è corretto oppure una volta all'anno ma si può dire anche una volta l'anno avverbi ed espressioni di frequenza indeterminati soprattutto avverbi però ci sono anche alcune espressioni indicano una frequenza di maggiore o minore intensità senza fare riferimento a un periodo di tempo o a un numero di eventi specifico è indeterminata non è tanto precisa in ordine di intensità della frequenza i più usati sono quindi in ordine di intensità decrescente quindi sempre significa tutti i giorni significa sempre quindi sempre l'evento si verifica continuamente in ogni occasione quindi o in ogni situazione bevo sempre un bicchiere di vino rosso a pranzo quindi quando pranzo ho sempre davanti a me un bicchiere di vino rosso e lo bevo sempre poi scalando abbiamo spesso molto spesso quasi sempre o di frequente l'evento si verifica con un'elevata frequenza non sempre ma quasi sempre alla sera guardo spesso la televisione ok esco una volta la settimana e non guardo la televisione ma guardo spesso significa che quattro cinque sei volte la settimana guardo la televisione incontro simona di frequente quando torno dal lavoro e poi scalando in giù abbiamo di solito normalmente generalmente l'evento si verifica con una certa frequenza in maniera costante di solito compro il pane in quel negozio ok ogni due settimane compro pane in quel negozio poi ogni tanto vado da un'altra parte ma di solito preferisco quello generalmente andiamo in vacanza a settembre è capitato che qualche volta andiamo in fossimo andati in vacanza anche ad agosto però generalmente andiamo a settembre preferiamo come periodo qualche volta a volte ogni tanto questo è un pochino più raro l'evento si verifica in alcune occasioni non in maniera costante ogni tanto portiamo i bambini a giocare sulla spiaggia ok capita viviamo vicini però non siamo così tanti abituati ogni tanto succede una volta al mese a volte vado a studiare in biblioteca quando torno dalla dall'università vado a studiare in biblioteca ogni tanto a volte quindi succede una volta ogni due settimane che vado a studiare biblioteca raramente quasi mai l'evento si verifica con una bassissima frequenza in poche rare occasioni luca beve raramente le bevande alcoliche ok siamo mi ricordo che siamo usciti insieme una volta e ha bevuto la bevanda alcolica però non ho più visto lo beve proprio beve bevande alcoliche proprio raramente quasi mai non andiamo quasi mai al cinema quindi ci capita proprio proprio raramente di andare al cinema mai l'evento non si verifica in nessuna occasione quindi mai significa che non ho mai fatto una cosa non la farò mai e che non è mai successa non porto mai l'ombrello neanche quando piove forte quindi non mi interessa bagnarmi va bene così non porto mai l'ombrello nota bene con mai e quasi mai si usa non prima del verbo doppia negazione in italiano in altre lingue non si usa ma in italiano si usa la doppia negazione per enfatizzare di più tranne quando sono all'inizio della frase quindi all'inizio della frase avrei detto mai porto l'ombrello significa mai se invece lo metto dopo il mai dirò non porto mai l'ombrello la posizione delle espressioni di frequenza invece all'interno della frase quindi lo spesso due volte la settimana o tutte quelle che abbiamo visto all'interno della frase è abbastanza libera anche se di solito seguono il verbo principale sentitevi abbastanza liberi poi come dico sempre bisogna farlo suonare bene l'italiano come tutte le altre lingue nell'orecchia perché si abituati in modo naturale per noi italiani ma ovviamente bisogna prendere questa confidenza questo si fa si acquisisce ascoltando leggendo riascoltando le lezioni come dico sempre questa lezione può essere per alcuni un po difficile per altri un po meno per altri più più semplice però sono importanti lo stesso anche se le lezioni le ritenete semplici e passabili perché mi capite bene o perché capite bene le espressioni non abbandonate il fatto che ogni tanto sono da riascoltare dopo due settimane dopo una settimana anche senza guardarmi perché ovviamente mi avete già ascoltato in modo preciso la prima volta spero lasciatela scorrere lasciatela lì in un angolo lasciatevi suonare le frasi nelle orecchie perché è importante perché così acquisite l'italiano in modo più naturale e automatico è un modo è un modo per imparare per non fare troppa fatica poi tutte le cose nella vita nel mondo per impararle bene bisogna fare fatica non c'è niente che arriva dal niente bisogna studiare bisogna impegnarsi bisogna metterci passione eccetera eccetera però ogni tanto l'orecchio in modo il cervello in modo automatico metabolizzano quello che abbiamo già ascoltato imparato ok la lezione degli avverbi e delle espressioni di frequenza termina qui spero che vi sia piaciuta come sempre vi chiedo un like e un seguimi sul canale attivate le notifiche perché tutti i sabati abbiamo una nuova lezione itapertutti.blogspot.com siamo su tutti i canali social cercateci aggiungiamo e condividiamo materiali continuamente ci sono come dico sempre 286 lezioni prima di queste con tanti argomenti da ascoltare e da e da scoprire insieme ad italiano per tutti ci vediamo nella prossima lezione di italiano per tutti ciao